Un minuto con Padre Pio dal giardino del convento dei frati minori Cappuccini di San Giovannino Tondo per raccontarvi un episodio particolare, così come tanti episodi sono tanto particolari, significativi, straordinari, ma noi ci limitiamo soltanto a raccontarveli e non andare e non entrare nel merito di quelle che sono le situazioni che sono accadute, perché sono storie, testimonianze che sono effettivamente accadute e sono tutte vere. E' Padre Marcellino Iassenzaniro che ci racconta quello che è accaduto a Lucia e Ignazio Merendino, anzi al figlio di questi due coniugi, Mimmo. Mimmo era un ragazzino che aveva sempre un mal di testa atroce. Dopo qualsiasi sforzo, giocando, facendo altro, si fermava, si teneva la testa, diceva mamma, mamma io ho un grandissimo mal di testa e mi fa male la testa da morire. Poi si siedeva sconsolato, quasi a volte perdeva anche conoscenza. La mamma intimorita immediatamente organizza per andare in ospedale, ma il papà blocca tutti e dice no, io lo devo portare a San Giovanni Rotondo, lo devo portare da Padre Pio, se lo mette in macchina e parte, viene qui, viene qui a San Giovanni Rotondo. Quando arriva dinanzi a Padre Pio riesce ad incontrarlo, perché come ben sapete c'era un sistema di prenotazioni, di visite, quindi non era molto facile, semplice incontrare Padre Pio, riuscì ad arrivare accanto a Padre Pio e disse padre mio figlio c'è questo forte mal di testa, sta malissimo, a volte perde anche conoscenza, lui disse ma fallo visitare, fallo visitare da qualche medico, io pregherò, pregherò perché il Signore lo illumini nel fare una diagnosi. Ma Ignazio, il papà di Mimmo, era insoddisfatto, allora quando andò via chiese ad una sua figlia spirituale, Maria Tagliaviva, di intercedere, di chiedere ancora a Padre Pio sul bambino, chiedere qualcosa, una risposta più chiara, allora la buona figlia spirituale lo fece, andò da Padre Pio e disse padre Ignazio, il papà di quel ragazzino di Mimmo, quel bambino che ha un grosso mal di testa, non farà visitare il bambino da nessun medico e non lo porterà in nessun posto, fino a quando non avrà una risposta certa da lei, vuole che faccia tutto lei, ci deve pensare lei, furono queste le parole di Maria Tagliavia. Al che Padre Pio racconta, Padre Marcellino nel suo libro di testimonianze, il padre alzo la testa al cielo, come spesso faceva, dopo aver ascoltato, una piccola pausa e disse e va bene, e poi andò via. Beh, sta di fatto che Mimmo non ha avuto più niente, non ha avuto più nessun mal di testa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.